Sai, Hamilton va sempre per la sua strada. Ma non si ferma mai. Capisco, ma davvero il miglior pilota al mondo pensa solo a se stesso? Traffico rilevato. Lewis riuscirà a resistere a tutta questa pressione? Hamilton continua a battere il record! Hamilton non si ferma davanti a niente. Siamo le scelte che facciamo. Quando sei sempre sotto i riflettori, non hai tempo per pensare agli altri. Devo dirti che un atleta professionista non può certo fare le ore piccole. Federer è sempre in viaggio. Come fa a essere così rilassato? Addio il programma Relax. Siamo le scelte che facciamo. Grazie.